Il Signore sia con voi 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 Guarisci le nostre ferite spirituali Solo tu puoi farlo Guarisci e sana Per poter sosseguiti Vivere con la missione Che tu ci affidi E così E così Essere i tuoi testimoni nel mondo Testimoni di tua risurrezione Il Signore sia con voi 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 Alleluia 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 Molimo te Ti preghiamo Guarda Guarda E guarisci tutte le nostre Ferite 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 Per cui spesso non siamo capaci Perdonare E così E così E così E così Ostacoliamo Tua gioia A riempire i nostri cuori Signore Signore guarisci Con le nostre ferite interiori Che possono essere cause Alle malattie fisiche Speriamo Stasera Ti doniamo i nostri cuori Stasera Ti doniamo i nostri cuori Pariscili E riempiti I sentimenti Di tuo cuore Divino Gesù Il cuore mite E umile Fa i nostri cuori Secondo il tuo cuore Grazie Gesù Grazie Gesù Signore Gesù Ti preghiamo adesso anche per la guarigione fisica Ti preghiamo per tutti i nostri malati In modo particolare per coloro Che soffrono malattie inguaribili Se loro sentino la tua vicinanza Tu hai promesso Io sono con voi In tutti i giorni fino alla fine del mondo Signore Tu sei con noi Nelle nostre gioie Ma anche nelle nostre sofferenze Nelle nostre malattie Tu dai il senso Ai nostri sacrifici Ci aiuti a comprendere Che nella luce della tua croce Tuo sacrificio Ogni sacrificio A suo senso Diventa la via Che porta la gloria della risurrezione Signore aiutaci in questa luce Comprendere il senso Comprendere il senso Malattia E la sofferenza Maria Maria Salute Dei infermi Prega per noi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo Grazie a tutti Grazie a tutti